benvenuti come al solito una piccola introduzione vorreste creare un video in due minuti con gli strumenti giusti o con lo strumento giusto potete riuscirci ma io non so editare non so fare niente non so neanche dove mettere le mani giusta osservazione scommettiamo che con questo strumento videomaker ci riuscirete anche voi specifichiamo il genere di video in teoria qualsiasi video però in questo caso mi sto riferendo a videoclip a filmati in cui volete far conoscere la vostra azienda far conoscere voi come persona insomma cose del genere e vi serve un video breve ma adatto alla circostanza avete diverse strade chiamare qualcuno facciamo l'esempio di un fotografo o un amico vostro che è bravo nel montaggio ok dovrete per forza dirgli quello che vorrete che lui faccia per voi forse più di una volta dovrete contattarlo o lui dovrà contattarvi farvi vedere in anteprima il progetto magari se non va bene chi direte per favore puoi cambiarmi quella parte sostituirla con questa parte e in teoria dovreste pagarlo e ve lo dico per esperienza i prezzi non sono così bassi a far delegare il lavoro a qualcuno allora io vi faccio vedere di cosa sto parlando e nella parte finale del video parleremo anche di soldi di prezzi quanto ci costa realizzare un progetto del genere da soli per iniziare abbiamo bisogno del programma da dove lo scarichiamo sembrerà strano per qualcuno ma non c'è bisogno di scaricare assolutamente niente questo programma funziona direttamente dal vostro o dal nostro browser quindi vi lascio il link in descrizione per comodità in modo che verrete subito reindirizzati a questa pagina e se non dovesse comparire in italiano selezionate la lingua in italiano direttamente da questo menu siamo pronti per cominciare potremo già iniziare però per comodità è meglio registrarsi in modo che dopo potrete esportare il progetto altrimenti non potrete farlo per iniziare clicchiamo su inserisci il test dello script dai un titolo al tuo video diamoglielo fitness club online ora nel 2020 va molto all'online facciamo questa simulazione inserisci il tuo testo potremmo anche saltare questa sezione e inserirla in seguito e qui dice digita o incolla il testo massimo 10 frasi separate da un punto a queste 10 frasi saranno abbinate in automatico dei video scelti dal programma stesso quindi scriviamo 10 frasi avremo 10 clip 5 frasi 5 clip il punto serve per separare le varie clip gliele incolliamo e andiamo avanti adesso l'intelligenza artificiale ci dà già dei suggerimenti come potete notare salute e fitness è quello che ci interessa se vogliamo essere ancora più specifici o ce lo selezioniamo da questo menu a tendina oppure scrivere qui agricoltura vedete già ci esce il suggerimento ma in realtà il nostro settore salute e fitness ci facciamo un clic e andiamo avanti sappiamo già su quale piattaforma verrà esportato il video bene selezioniamola altrimenti ne selezioniamo una qualunque e in seguito magari mentre state pensando ancora al progetto la potremo cambiare possiamo selezionare anche il colore del testo dopodiché andiamo avanti ora ci chiede di selezionare il mood del video mood dovrebbe significare umore lo stato d'animo del video quindi nel nostro caso trattandosi di fitness selezioniamo energico andiamo avanti ora in questa sezione possiamo scegliere in che lingua devono essere lette le 10 frasi che abbiamo scritto quindi come un vero e proprio doppiaggio in tempo reale potremo anche farne a meno di questa opzione più avanti vedremo come selezionate la voce che più vi piace benvenuti su videomaker e andate avanti in teoria abbiamo finito quanto ci abbiamo messo questa sezione che vedete qui potremmo chiamarla la zona di post produzione cioè la zona in cui possiamo fare degli accorgimenti delle modifiche in base alle nostre esigenze nel caso in cui quello che ha fatto il videomaker non ci piace altrimenti dobbiamo solo cliccare su scarica se vogliamo vedere come è venuto il filmato facciamolo partire la tua palestra arriva a casa scegli tra più di 30 esclusivi corsi aperti dal nostro fitness club avete visto ogni frase è stata abbinata ad una scena ad una clip più compatibile possibile esploriamo il mondo delle modifiche come vi dicevo abbiamo la possibilità di modificare di nuovo l'impostazione del video possiamo rendere la quadrata oppure verticale per esempio per storia su instagram eccetera ecco il titolo originale che abbiamo selezionato all'inizio possiamo cambiarlo in tempo reale con uno dei testi già preimpostati qui al lato qui c'è il pannello di tutte le impostazioni che riguardano il testo dategli un'occhiata è estremamente semplicissimo potremmo anche eliminare il testo cliccando su questo cestino potremo però riaggiungere di nuovo il testo ok quindi possiamo spostarci nei vari pannelli risorse testo andiamo un attimo in risorse vediamo cosa si può fare se non siamo soddisfatti della clip che l'intelligenza artificiale ci ha importato facciamo clic su questa clip e semplicemente con un clic qui al lato sostituiremo la clip in automatico e lo stesso principio vale per tutte le altre clip potremo fare anche un'altra cosa nei risultati di ricerca qui scriviamo una parola chiave aprendo una parentesi al volo voglio farvi notare che l'archivio di videomaker attualmente presenta circa 5,5 milioni di filmati disponibili vi aggiungo che ci sono 150 milioni di immagini e più di 100 mila tracce audio disponibili mettiamo che per assurdo vogliamo cambiare completamente il genere ho scritto basta ci escono i video correlati ci facciamo un click e verrà sostituita in automatico non ci piace nulla di quello che ci offre videomaker nessun problema carichiamoci noi un video clicchiamo su carica video carica file ecco una volta che l'ha caricato clicchiamo su seleziona questo è il risultato un'altra cosa sono le transizioni l'effetto è che si crea tra una clip e l'altra basta cliccare sul quadratino qui in mezzo e con un semplice click la transizione verrà sostituita andando nella sezione audio possiamo regolare il volume della musica in sottofondo la voce fuori campo se selezionata ma questa può essere anche tolta notate semplicemente deselezionandola non si sentirà la voce così come possiamo sostituire una colonna sonora così come possiamo caricare un audio personale e così come possiamo cercare un qualsiasi audio disponibile nella libreria di videomaker ok fatto ciò clicchiamo su scarica scendiamo un po verso il basso e clicchiamo su scarica clicchiamo su scarica perfetto se facciamo clic su play vedremo l'anteprima altrimenti clicchiamo direttamente su scarica su questo pulsantino clicchiamo e troveremo il pulsante appunto pulsante scarica ok abbiamo terminato il nostro filmato ma quanto mi è costato andando nella sezione prezzi abbiamo tre possibilità la prima paga al bisogno paga al momento ovvero ho creato questo filmato per esportarmelo pago 33 dollari per chi non lo sapesse in euro sono circa 30 euro quindi per soli circa 30 euro mi sono creato un filmato da solo non ho dato fastidio a nessuno l'ho creato come volevo io e non ho pagato per niente una cifra esorbitante conviene o non conviene utilizzare questo software sì se siete alle prime armi e non avete la possibilità di pagare qualcuno con bei soldi e non avete altre strade se non quello di fare tutto da soli